Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi come avete visto nel titolo prodotti preferiti di marzo che ho tutto qui, ho tutti nel mio vassoio qui davanti saranno per lo più prodotti di skin care, body care, capelli perché make up come avete visto per ovvie ragioni poco e niente quindi iniziamo subito dal corpo, facciamo così, iniziamo dal corpo allora, super prodotto, sono due dello stesso brand ho scoperto questo brand da pochissimo che si chiama Eubos Med lo trovate in farmacia, ho visto che c'è su Amazon comunque vi lascio tutto linkato sotto tutti i nomi dei prodotti come sempre e lo rivende anche Notino che praticamente ha tutto questa quarantena, ho scoperto questo sito di Notino, se cercate qualcosa la trovate primo prodotto specifico per chi ha la pelle secca già di suo sul corpo ma ancora più secca in questi giorni è questo olio da bagno si chiama appunto olio da bagno per pelli secche concentrato da bagno, primo di saponi alcalini per la detersione dedicata, olio di mandorle dolce eccetera eccetera esiste anche l'olio da doccia dello stesso brand, io però ho l'olio da bagno che uso sia quando faccio la vasca quindi quando faccio mi metto a mollo nel bagno e anche quando faccio solo la doccia quindi lo utilizzo anche su tutto il corpo quando faccio la doccia buonissimo ma veramente buono ha un profumino delicato, leggermente fiorito ma un fiorito non il solito profumo fiorito un po' stucchevole che magari può non piacere questo è proprio il profumo pulito della nonna in senso buono e mi piace tantissimo perché mi idrata la pelle e io non sento più la necessità da quando uso questo olio da bagno di mettere poi l'olio sapete che io non utilizzo la crema corpo ma sulla pelle umida vado a massaggiarmi un olio corpo e quindi evito poi lo step della crema corpo e questo non me l'ha fatto saltare cioè mi fa schippare quel passaggio lì perché la mia pelle è idratata poi ovviamente adesso che siamo a casa e abbiamo un pochino più tempo io la sera la crema corpo me la sto anche dando giusto per perdere quei dieci minuti in più però una linea promossa tutto quello che sto provando di questo brand mi sta piacendo sto provando anche dei prodotti di skin care hanno una linea a base di acido ioloronico che mi sta piacendo tantissimo però aspetto di averli testati meglio e prima di parlarvene altro prodotto ormai un must have della quarantena è la crema mani quante volte abbiamo lavato le mani? quante volte abbiamo lavato le mani? tantissime e io ho praticamente una crema mani più o meno in ogni zona della casa dove sosto quindi ce l'ho qui quando mi trucco ce l'ho sul comodino che metto prima di andare a letto ce l'ho in borsa anche se la borsa non la uso più e questa invece si è guadagnata il posto vicino al al lavello quindi sul lavello vicino al sapone per le mani c'è questa si asciuga subito va bene per mani secche e ruvide rigenera e protegge non resta appiccicosa è morbida è morbida si massaggia è morbidissima da massaggiare proprio scusate è proprio piacevole perché scorre bene cioè riesco anche a massaggiarmela bene a farmi un po' di massaggio alle mani ecco si è già asciugata si è già assorbita non mi resta appiccicosa sulle dita quindi io poi posso toccare il telefono qualsiasi cosa perché comunque non ho la sensazione di appiccicoso parliamo di capelli l'unico prodotto visto che il video è che a routine è recentissimo però io di questo prodotto devo parlare all'infinito perché veramente è un prodotto che mi piace tantissimo è questo olio questi semi di lino cristalli liquidi di alfa parf tra l'altro mi sono comprata shampoo e balsamo della linea visto che avevo finito tutto me li sono comprati li sto provando adesso li ho provati per un lavaggio ieri quando ho lavato i capelli e comunque li proverò meglio vi parlerò anche di quelli top profumo buonissimo l'ho riapplicato anche stamattina e come vedete non mi ha assolutamente appesantito i capelli me li rende lucidi morbidi faccio meno fatica a pettinarli anche con le dita a districarli perché sono morbidissimi e per me questo è diventato una certezza mai più senza parliamo di skin care poi vi inserisco il profumo così vi lascio proprio con l'acquolina in bocca perché lo so che quando vi faccio vedere i profumi mi piace molto allora skin care io ho fatto shopping nella mia scorta e quindi sto magari riutilizzando molte cose che avevo un attimo accantonato perché stavo provando qualcosa di nuovo e mi sono re-innamorata di questo prodotto qui che è il primo di cui vi parlo questo è un prodotto di The Body Shop di una linea quella la camomilla che io avevo già provato tantissimi anni fa e avevo amato tutta più o meno la detersione anche lo struccante occhi bifasico mi piace molto di questa linea questo è il burro struccante a base di camomilla come potete vedere è molto utilizzato perché io lo sto usando proprio come primo passaggio della detersione qui anche se mi sono semplicemente messa un po' di crema colorata e un po' di blush comunque mi strucco tutto il viso con questo non sugli occhi perché io sugli occhi non reggo bene le sostanze burrose quindi mi si appanna alla vista mi danno fascia puntualmente mi asce un orzaiolo quindi solo sul viso e mi piace rispetto ad altri burri struccanti che ho come paragone per esempio è molto simile al Take the Day Off Balm di Clinique ma un po' più facile da sciacquare nel senso che lo massaggiate ne basta una piccola quantità lo massaggiate sul viso emulsionate poi sempre la stessa cosa che avete fatto sul viso con le dita inumidite diventa quasi un latte quindi poi prendete il pannetto ve lo rimuovete e rimuovete tutto anche quando siete truccanti di più tipo questa sera che io adesso mi sono truccata per registrare il video passerò questo su tutto il viso alla prima passata ho fatto e mi piace di più rispetto agli altri burri uno perché qualità prezzo conveniente costa molto meno ed è un ottimo prodotto e poi proprio perché è più facile da risciacquare invece per esempio sempre quello di Clinique mi piace tantissimo toglie tutti i make up strong che fate ma resta un po' più burrosino appiccicosino sulla pelle invece questo va via proprio tranquillamente dopo la detersione quindi dopo la mousse eccetera sia mattino che la sera questo tonico qui sono a metà di questo tonico e è di una linea nuova si chiama ora che è del marchio Bisubio che ha tutti i prodotti naturali 100% ingredienti perfetti eccetera lanciato questa nuova linea un po' più luxury di cui ho avuto modo di provare alcuni prodotti ma il mio preferito è il tonico si chiama acqua ed è un balancing action soothing lifting effect sono 100 ml la bottiglia è in vetro e ha un nebulizzatore loro dicono di applicarlo direttamente sul viso allora a volte lo applico sul viso a volte lo applico sul dischetto e lo tampono sul viso dipende da come sono vestita perché se sono già tutta vestita quando vado a fare la mia skin care mi faccio una doccia con questo tonico e quindi evito invece la mattina visto che sono ancora in pigiama me lo vaporizzo o la sera ancora meglio che sono sicuramente in pigiama quando vado a struccarmi me lo vaporizzo ed il gioco è fatto vi avevo preso delle cose da dirvi allora mi ero segnata che cosa aveva dentro ha estratto di spirulina lotus marino e malva per un'azione rigenerante ossigenante ed illuminante e mi piace molto la sensazione sul pack c'è scritto lifting effect sì e no nel senso che non vi aspettate l'effetto tensore di un lifting ma semplicemente l'effetto compatto cioè vi rinfresca e vi sveglia bene la pelle vi dà un po' di turgora ecco in quel senso dovete interpretarlo poi due sieri la mia salvezza in questa quarantena questi due io sto usando praticamente solo loro sia mattina che sera e sono i due sieri gli unici due sieri che fa double b anche qui la conosciamo come marchio un marchio completamente naturale tutti i prodotti sono certificati tutto sempre meraviglioso quindi se cercate dei prodotti completamente verdi coltri free eccetera eccetera potete puntare su questi brand abbiamo i due sieri uno è siero viso anti age e l'altro è siero viso nutriente il siero viso anti age è una bomba di acido ialuronico un po' più liquidino come consistenza e poi è uscito nel 2019 il siero viso nutriente che è un mix di oli ed ha proprio la consistenza un po' più oleosa io li mixo insieme quindi nel palmo della mia mano vado ad applicare a seconda del fatto che sia mattina o sera più gocce di uno e più gocce di un altro generalmente la mattina sono tre gocce di acido ialuronico quindi del siero viso anti age e due gocce del siero dell'olio quindi del siero viso nutriente la sera il contrario più gocce del siero viso nutriente e meno gocce dell'acido ialuronico quindi li mixo insieme sono ottimi anche come base trucco questo qui tra l'altro il siero viso nutriente quello in olio mi aiuta quando utilizzo il fondo di Charlotte Tilbury che è un fondo super full coverage molto coprente un po' spesso anche come consistenza io metto una goccia di questo e riesco ad applicarlo bene mi aiuta ad avere un effetto meno pastone quindi è perfetto anche da utilizzare così poi io pelle secchissima sul viso non solo sul corpo ma anche sul viso e ci sono dei giorni in cui veramente sento la necessità soprattutto in questa zona di applicarmi qualcosa di super idratante ma allo stesso tempo che mi dia anche il sollievo che non mi lasci quella sensazione di pelle un po' che tira alla quale io avendo una pelle avendo avuto sempre una pelle mista non sono per niente abituata e ho risolto con questa qui la Veleda Skin Food ve l'avevo già consigliata perché questo è un balsamo perfetto perché la pelle secca è molto secca lo potete applicare anche in altre zone del corpo non solo sul viso e proprio da sollievo alla pelle che tira quindi ha questa sensazione di secchezza loro lo chiamano proprio un trattamento di emergenza per le zone molto molto secche allora è un po' contraddittorio questo prodotto nel senso che c'è chi lo ama e chi lo ama un po' meno per via dell'odore dovete tenere conto che l'odore è di oli essenziali quindi vi deve piacere quell'odore un po' erboso un proprio rilassante per me è rilassante però per alcuni no e quindi questo potrebbe essere una cosa che ad alcuni non potrebbe non piacere quindi mi sento un dovere di dirvela a me piace mi ricorda un po' la un prodotto di Sisley che usavo tantissimi anni fa e cosa faccio io ne prendo una piccolissima quantità la scaldo bene sulle tra le dita e poi vado a pressare solo dove ho necessità quindi per me è questa zona io in questa zona soprattutto ai lati del naso e anche il naso ce l'ho veramente secca nonostante comunque faccia tutta la skin care routine giusta quindi che scrabbo faccio le maschere idratanti uso cose un po' più nutrienti bla 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 però mi resta sì emergenza batteria quindi non mi ricordo più cosa stavo dicendo vi avevo detto che sto utilizzando questo appunto per risarmi secche del viso unica maschera che tollero in questo periodo perché è una maschera detossinante ma allo stesso tempo molto delicata e quindi non aggressiva non mi pizzica la pelle non mi tira la pelle è questa qui di Now Bay Now Bay è un brand che potete trovare online oppure un giorno troverete anche d'acqua e sapone di gotà e si chiama appunto è la linea detox che già avevo fatto vedere perché oh no mi sa che ve l'avevo fatta vedere su Instagram perché uso la mousse ed il tonico questa è una maschera al legno fossile con carbone tè verde liquirizia e aloe vera che cosa fa? praticamente questo è un trattamento di pulizia profonda disintossicante profondo che ha un'azione grazie al carbone di uniformare il colorito quindi l'incarnato e in più come vi dicevo tè verde e liquirizia hanno un'azione minimizzante dei pori che restano comunque sempre presenti ci avvenisse pure l'invasione delle cavallette il poro dilatato c'è sempre quindi mi piace la faccio anche due volte a settimana ovviamente non ho niente da fare la sera quindi vado di maschere e questa è l'unica che al momento è la mia preferita e che non salto mai ve la faccio poi vedere mi sa che ve l'ho già inserito la clip dove appunto vi faccio vedere che è nera io la stendo con il pennello sulle zone che mi interessano di più mi interessano di più quindi di solito zona T e mento dove appunto ho i pori un pochino più evidenti perché mi piace quell'azione che ha sul poro la lascio 5-7 minuti non di più non la faccio seccare tutta completamente perché se no in quel caso mi andrebbe a seccare la pelle e non mi piace però la sto usando e mi sta piacendo moltissimo ultimo prodotto di skincare che vi faccio vedere che utilizzo quando esco in giardino a leggere quindi sotto il sole è questo qui questa è una mini taglia che avevo preso in farmacia insieme ad un altro prodotto che mi serviva perché mi si era descomato ancora prima della quarantena tutto qui quindi per paura che mi fosse venuta la dermatite che poi non era dermatite sul viso avevo preso anche questa perché c'era appunto il kit prova ed è la protezione 50 più della Rush Posay Antilios ed è praticamente una protezione SPF che io sto utilizzando su tutto il viso mi incuriosiva provarla perché ne avevo sentito parlare sempre bene negli anni passati e devo dire che mi piace perché è molto leggera riesco a stenderla bene viso collo tutte le zone che ho esposte non mi piace tantissimo il profumo perché è proprio il profumo tipico chimico dei solari però per il momento mi sta piacendo infatti riesco a stare anche sotto il sole tranquillamente molto leggera non mi fa sudare non me la sento sulla pelle mi piace l'unica cosa è che rivedrei un po' la profumazione però per il momento tra gli SPF che mi erano rimasti questa è quella con la protezione più alta sta facendo bene il suo lavoro mi sta schermando bene soprattutto non mi sento la pelle piena di crema solare quindi assolutamente magari sul corpo ma sul viso cercherei qualcosa di un pochino più profumato profumato? profumo e qui arriviamo a lui penso di farvi una top 5 dei profumi che ho utilizzato di più questi mesi quindi non vi faccio vedere tutti i profumi che ho perché tanto ormai sono sempre quelli li abbiamo già visti vi lascio anche linkati i video dei profumi prima della quarantena ho acquistato un profumo di Elan ero andata sempre in farmacia mi sapevo lo stesso giorno che avevo tutta la pelle screpolata e avevo hanno usato e provato questo profumo qui che si chiama bianco d'ambra è uno dei parfum e l'avevo provato insomma mentre la signora la farmacista andava a prendermi delle cose mi è rimasto sulla pelle tutto il giorno io tutto il giorno ho sentito questo profumo e tantissime ore e niente alla fine me lo sono andata a comprare lo trovate in farmacia in profumeria lo trovate su amazon lo trovate ovunque è molto facile di reperire vi leggo le note testa ambra e noce moscata quindi abbiamo una nota di testa ambrata e speziata passiamo al cuore iris fiorentino e felce qui abbiamo una parte pudre fondo resina da ambra note moschiate e incenso quindi abbiamo un fondo più moschiato l'incenso io lo schipperei perché io non lo sento proprio quello che mi resta sul come scia finale del profumo quando lo indosso è sicuramente una nota ambrata talcata molto delicata mi ricorda tantissimo così a memoria Bois d'Argent di Dior ovviamente conosco molto bene Bois d'Argent lo possiamo paragonare ve lo paragono giusto per farvi capire su che scia di profumo siamo poi quello resta per me inimitabile mi dispiace però questo potrebbe essere un'ottima alternativa la durata è ottima per quanto mi ricordi perché secondo me il profumo in casa dura in un certo modo e fuori all'aperto dura in un altro quindi adesso io ogni tanto me lo vaporizzo soprattutto quando metto il pigiama a profumare pulito o quando voglio di mettere un profumo uso questo oppure qualcos'altro però appunto ci teniamo a parlarvene perché per me resta un profumo promosso un profumo che mi piace tantissimo e ho visto che della linea per l'estate se arriverà se l'estate sarà simile a quelle che ci ricordiamo ho visto che della linea c'è quello al tiare che devo andare assolutamente prima o poi ad allusare quindi questi erano tutti i miei preferiti di marzo i preferiti di marzo un marzo un po' strano rispetto a tutti gli anni dei preferiti però ok io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video un po' strano un po' strano di marzo un po' strano di marzo un po' strano